Allora, ben a tutti ragazzi e benvenuti in questa mia nuova serie con un nuovo gioco che però vabbè avevamo trattato anche lo scorso anno Cioè Football Manager, un gioco che a me piace veramente da morire Allora, di fare questa serie soprattutto in collaborazione anche con un sito che è un forum di forum community Che si chiama football-manager.forumcommunity.net Troverete qui sotto il link in descrizione Allora, praticamente io la serie la racconterò in due modi Sia scritta, e voi potete leggere nel forum che io vi lascio in descrizione, vi lascio direttamente il link alla mia carriera E sia attraverso i video Cioè, se va potete leggere quello che scrivo Ma dato che secondo me è anche un po' più divertente con i video come abbiamo sempre fatto E ho deciso di farla anche con i video Quindi, l'allenatore che ho scelto è Eric Cantona È un giocatore straordinario, che è un ex giocatore straordinario Adesso poi fa l'attore E ultimamente addirittura è stato anche arrestato Comunque, è un personaggio un po' fuori dal comune Ed è un personaggio che a me piace veramente molto E quindi ho deciso di scegliere lui come allenatore Allora, è nato il 24 maggio del 1966 A Marsiglia Ex giocatore del Manson United Quindi, possiamo andare a scegliere la squadra Allora, ho messo i loghi belli Anche le maglie per tutte le rose Del campionato italiano Però, ho deciso di iniziare la carriera con la mia squadra del cuore Dato che sarà una carriera difficile Perché comunque, il mio obiettivo come sempre è quello di puntare su una squadra giovanissima E puntare in alto Ma dato che Football Manager è molto, ma molto più realistico di FIFA Sotto certi aspetti Farsi dare un rinnovo del contratto Farsi proporre il rinnovo del contratto del signor Moretto di Zamparini Sarà veramente difficile E soprattutto perché lui ha il braccino abbastanza corto Quindi dovremo accontentarci di quel che ci darà Allora, la mia mentalità del gioco è quella di creare una squadra veramente giovane Cioè, liberarci dei ingaggi molto elevati E giocare soprattutto con giocatori Vedete, lui ci offre un budget di 1 milione e 275 mila a settimana Veramente pochi Comunque, quello che vi stavo dicendo È di creare una squadra giovanissima Mandar via la gente che prende molto di stipendio Stare attenti anche ai giocatori di scadenza di contratto E magari dare un'occhiata anche ai giocatori svincolati Vi dico giocatori svincolati Perché comunque, come ben sapete Avendo così pochi soldi I giocatori svincolati potrebbero esserci molto comodi Allora, qua stiamo presentando la squadra Vabbè, cose non molto importanti Freghiamocene La cosa che vi volevo dire è che questa serie andrà avanti anche in base ai mi piace Dato che a me è una cosa che piace veramente tanto Quello che vi chiedo è di mettermi piace e seguirmi Perché so che forse non è molto interattiva Ma non è vero Perché comunque vi chiederò sempre tutto Se c'è un giocatore che voglio prendere Vi chiedo informazioni se lo volete di qualità E adesso questo qua è soltanto un video alla fine di presentazione Sarà abbastanza lungo Più meno i video dureranno sempre sui 10-15 minuti Vedete che all'inizio di arrivare già fioccano diciamo Le prime offerte per Malela Che è un giocatore che comunque è sempre stato sulla bocca di tutti Anche se a me non piace moltissimo Preferisco puntare su altri Allora, mandarei presto giocatori come Embalo San Severino eccetera Arrivano offerte anche per Hernandez Per la comproprietà Ma noi rifiuteremo E vabbè qua sono cose che comunque non vi importano Comunque E' questa qua la rappresentazione Che ho incontrato la stampa Io sparo un po' tutto cosa accade Tanto la gente di poco gliene importa E sarà il bello Sarà andare a Nel vivo nel mercato Comunque i soldi sono pochi Vedete che comunque continuano a fioccare le offerte per Malela E noi finché arriva le offerte Vedremo se accettarli Io comunque vorrei venderlo Ma per una cifra intorno all'un milione e mezzo E' arrivata un'ottima offerta E' arrivata un'ottima offerta dal Basilea Per due milioni Il valore di due milioni a tre Io lo alzo Vediamo di negoziarla Allora ci avviciamo la prima partita Però Prima di tutto Andiamo a sistemare la nostra formazione Così vi parlo già di tattiche Che utilizzerò Allora I miei due moduli preferiti Vabbè Sono il 3-5-2 E il 3-3-4 Per il nostro Palermo Prima di far ciò però Vedete che sto mettendo in vendita I giocatori che a me non piacciono E comunque non servono Che erano Aronica E proveremo a vendere anche di Gennaro Un altro che a me non piace completamente Bacinovic E poi Vediamo Uicani Perché vediamo se lo trovo Eccolo qua Uicani E perché comunque Uicani soprattutto va in scadenza l'anno prossimo E dato che Non vorrò Rinnovare il suo contratto E ho riso di venderlo adesso Perché comunque Punterò su un portiere svincolato Che vedrete dopo Che è un ex Real Madrid Allora poi Vabbè mettiamo No Sansevrina non lo tocchiamo Però adesso Tanto arriva dell'offerta Per mandarla in prestito E adesso Andiamo un secondo avanti E abbiamo E arriva l'offerta Per Aronica Perché dobbiamo vendere Perché è uno di quelli Che prende di più di stipendio E poi vediamo Sono arrivato altre offerte Per Morganella Guardate Il Basilea Ha accettato L'offerta di 2.3 milioni Per Morganella E noi La controfferta Scusate Noi accettiamo Speriamo che riusciamo a trovare L'ingaggio Cioè Speriamo che Morganella riesca a trovare L'accordo Per l'ingaggio Con la società Che ha fatto l'offerta Allora Embalo Va in prestito La casa Artana E adesso Possiamo parlare Di tattiche Allora Come vi ho già detto I moduli che mi piacciono Soprattutto Con questi giocatori Che abbiamo Sono il 3-5-2 E il 3-3-4 Che il 3-3-4 Non è altro Che un 3-5-2 Soltanto E con gli esterni Di centro campo Più alti Che Che sarebbero Ad esempio Non so Troianiello Lores Barrellas Devanovic Sono giocatori Che alti Giocano molto bene Allora In difesa In porta Sorrentino Difesa con Angelcovici Munoz Milanovic Centro campo Avete visto Che ho già messo Vacinovici Barrete Bolzoni Per gli esterni È un po' Difficoltosa la cosa Perché comunque Non ci sono proprio Degli esterni adatti A parte Quelli che ho citato prima Però Vedremo cosa fare Magari Nel mercato Se Se prendere Qualcuno Allora Io ho un giocatore Che c'è nella primavera Che mi piace moltissimo Che dopo lo prenderò Ve lo farò vedere Ve lo farò conoscere Lo conoscerete Secondo me Non in molti Perché comunque È seguito Una mezza Europa Soltanto che Il Palermo Per fortuna Lo sta tenendo Ma se non sbaglio Nella realtà Lo ha preso La Juve In comproprietà Se non sbaglio Comunque Qui Questa è la nostra formazione Per adesso Avete visto Che comunque Scusate se continui a ripetere Comunque Avete visto Che è una formazione Secondo me Di tutto rispetto Anche se Secondo me Potremmo Far di meglio Soprattutto grazie al mercato Vedremo Dopo E dopo Magari anche Nel prossimo episodio Cosa fare Allora Aronica Va allo Spezia Però Aronica Vuole anche dei soldi Per andare via Va bene Lo accontentiamo Allora L'Atletico Offre un milione e mezzo Per Per Malele Noi Per adesso Mettiamo su Accetta Vediamo poi Alla fine Dove va andrà a finire Lo Spezia acquista Aronica ufficiale Offerta anche Del Manchester United E noi questa La rifiutiamo Perché è troppo bassa Alcuni osservatori Offron dei giocatori Tutta la caccia di Malele Offerta per Barreto Questa qua Offerta per San Severino Il mio carissimo amico San Severino Che va in presto Al Vicenza E poi Abbiamo visto Che abbiamo rifiutato Le due offerte Per Barreto Barreto che qui Ci chiede un rinnovo Di contratto Perché non l'abbiamo Fatto partire Noi gli iniziamo Vediamo Prudente Pensavo di cominciare Le trattative Per il rinnovo A fine stagione Andiamo avanti Sosa Sebastian Sosa È un argentino Un uruguayano Se non sbaglio Un uruguaggio Va in presto Alla regina Sono comunque Giocatori Di seconda fascia Che non utilizzeremo Soprattutto in avanti Perché Abbiamo davvero Un ottimo parco Attaccanti E magari potremmo Aggiungerci Qualche Giovane Promessa Qua Malele Comunque È andato Ormai Veramente Indirittura D'arrivo I suoi trasferimenti Allora Prima amichevole Di questa Nostra avventura Comunque Arriva un'offerta Un secondo Prima Per Sanseverino Per la comproprietà Io l'ho alza Un milione E poi L'offerta Per Morganella Io ho messo Un milione e due Per la comproprietà All'Udinese Allora Andiamo a giocare La nostra Prima partita Di L'andiamo a simulare Cioè Io l'ho giocata Ma l'ho simulata Per far prima Per questo episodio Fisce 5 a 1 In gran spolvero Laffer Di Vasquez Da prela Di Bala Poi non ho visto Gli altri che l'hanno insegnato Di Bala Due gol Quindi Abbiamo già detto tutto 5 a 1 La prima amichevole Anche se è una squadra Abbastanza Inguardabile Allora È stata una passata Per il Palermo Che Franco Vasquez Starà fuori Per 3-4 giorni E Andiamo a Ci avviciniamo Alla seconda partita Di questo Primo episodio Primo episodio Che come vi ripeto Racconterò Anche attraverso Un Anche attraverso I post Lì in quel forum Magari se mi seguite Mi farebbe Veramente Molto piacere Allora Il difensore Di cui vi stavo parlando Prima È a proposito Davide Monteleone Che è davvero Un difensore Poderoso Ed è giovanissimo Un giocatore che Vi consiglio Se siete Se usate Nelle squadre Piccole E Adesso Andiamo a prendere Il portiere Di cui vi parlavo Che è Antonio Adan Antonio Adan È un ex Real Se non sbaglio È un giocatore Che secondo me Potrebbe giocare Titolare Al posto Anche di Sorrentino E Sorrentino Comunque in fase Garanti Infatti Probabilmente Potremmo Anche pensare Di venderlo E proviamo a fare Quindi l'offerta Per Adan Sperando che Accetti Allora Vediamo Qui L'Udinese Annulato L'offerta Per Morganella E Ci avviciniamo Alla sfida Contro il Gossau Sembra una squadra Sarda Comunque Giochiamo sempre Gol 3-5-2 Ma cambiamo Gli interpreti Perché comunque Dobbiamo far giocare Un po' tutti Specialmente A inizio Campionato Avete visto Che sto Mettendo Monteleone Titolare Con Mules Milanovic Poi Eros Pisano E Belotti Titolare Con Con L'Afferti E Comunque Avete visto Insomma In cosa consiste Questa mia carriera Puntare Sui giovani Per poi farli Questi Anche se voi direte Minchia ma Stai usando Stai vendendo I Quella primavera Lo so Ma se li mendo Sarà un motivo Perché a me non piacciono Quindi prenderemo Altri giovani Per questa partita Useremo Il 3-3-4 Che avete appena visto Con le due ali alte Che sarebbero Per adesso In questa partita Troianiello E Lores Varela Partica finita Per 3-0 Le reti Uno di Troianiello Uno di Lores Varela Se non sbaglio L'altra di Daprela Comunque Ah no Vediamo Ah no Era Belotti L'altra Ok Vittoria Comoda Per 3-0 Perfetto Ragazzi Il video Sta per terminare E qua c'è un'altra Offerta dello Schalke Che questa Rifiutiamo Perché bassa E quindi avete visto Che venderemo Anche Marele E gli altri Da andare In prestito Naturalmente Dovevamo fare Un mix Di giovani E vecchi Cioè non vecchi Non vecchi Da buttare Ma Di giocatori esperti Avete visto Quali altre offerte Per Marele Sono davvero Tantissime Penso che alla fine Andrà Alborus e Dortmund Ci avvitiamo Alla sfida Contro il Marsiglia Che faremo Nel prossimo episodio Quindi ragazzi Io spero Che questa serie Vi piazza E commentate Con dei consigli Che volete Per dei giocatori Giovani Che non prendono Molto di stipendio Accettato Ada Nel frattempo Dei giocatori da vendere Io adesso È tutto E vi prego Lasciamo un mi piace Un bel commento Con dei consigli Passatele alla carriera Scritta in quel forum E non so Non so altro Cosa dirvi E Ci vediamo Al prossimo video E spero che Il video Vi sia Strapiaciuto Perché è una carriera Che penso Di continuare Ancora per molto tempo Sarà una carriera lunga Con questi Non mini video Comunque dei video Tra i 10 e i 15 minuti E facciamo così Se il video arriva a 500 mi piace Farò il prossimo video Prima possibile Quindi Adesso davvero tutto Spero che Vi siate divertiti In questi 15 In questi 14 minuti E ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao